C'è un bel signore che vuole parlare? Torna, è dietro! Chi è? Ma saranno bella le quattro! Ah, senza belle! Chef, ragazzo, ragazzo, ragazzo! C'è un bel signore che vuoi una grande guerra che vuoi qualcuno che vuoi parlare alle nuoveclere e io ho avuto l'appartita con noi! Torna la photo in mezzo! Torna la immaginata! Amico! Si! Azzurru, ragazzo! Azzurru, ragazzo! Alla prossima. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.